Dall'inizio aspettavamo una partita difficile comunque, credo che sapevamo che era una squadra che veniva a giocare indietro, a difendersi tutti insieme, hanno fatto un gran lavoro, è chiaro che volevamo la vittoria però non è stato così, però comunque merito loro che hanno fatto un gran lavoro di difensivo. Sul tuo cartellino rosso te lo aspettavi? No, non me l'aspettavo, anche perché io non lo so, da dentro, magari dopo lo guardo nel video e posso pensare diverso, però la mia intenzione era che lui non cercasse di fare il cross, sì che l'ho toccato, è vero, però era il primo fallo, ma non lo so.